Per personalizzare il profilo del tuo sito web, accedi a SuperSite e clicca sulla prima icona del menu superiore. Si apre un menu laterale, clicca su Impostazioni sito e poi su Profilo. A questo punto viene mostrata una sezione da cui è possibile inserire le informazioni di base del profilo, ovvero il logo aziendale, che puoi trascinare nello spazio apposito o puoi caricare direttamente dal pulsante. Scegli un'immagine, il nome della tua azienda, una descrizione della tua compagnia, un indirizzo e-mail legato al tuo conto PayPal, se presente, o la valuta di pertinenza. La sezione Dettagli contatto contiene tutte le informazioni che appariranno nelle pagine dei contatti del tuo sito, nello specifico e-mail, paese, indirizzo, codice postale, telefono e di link ai profili social. Tutti i campi sono opzionali, ovvero possono essere compilati o meno a seconda delle informazioni che desideri rendere disponibili agli utenti. Una volta inseriti i contenuti, clicca su Salva in alto a destra per confermare le modifiche.